Bello ragazzi, benvenuti in questo video sul mio canale, oggi siamo qui con un nuovissimo video Oggi ragazzi vogliamo il post partita di Sampdoria Verona e di Milano Genova ragazzi La Sampdoria che vince, sbanca il suo stato e luce le porte chiuse 2-1 con un buonissimo Verona che vuole l'Europa ma che ha perso Il Milan perde a San Siro e gada a San Siro contro un Genova che si vuole salvare sempre di più Una 2 Parliamo di Sampdoria Verona ragazzi Una Sampdoria che inizia malissimo i primi 20 minuti Il Verona viene in questi primi 20 minuti Domina del tutto Però, regà, trova il vantaggio Grazie, oddio, non mi riconosce a Cagni Dico, non mi riconosce a Cagni, non mi riconosce a Cagni, non mi riconosce a Deodero E quindi ci dicevo, il Verona sta veramente nel Beato di Grazia Poi ragazzi in Sionepo si trasforma, la Sampdoria domina Il Sionepo ragazzi ha dominato nel tutto la Sampdoria Fa 300.000 parate, fa Silvestre, salva il Verona Fino a un certo momento però Quando Quagliarella si stanca Dei mettere la palla dentro col sinistro Pareggio e Conti al 75esimo Minuto 81 Presunto rigore, il VAR lo va a guardare Al VAR lo va a guardare L'arbitro indica al discreto, un check veloce al VAR Il fallo c'è tutto perché Davidoviz nel presunto cross allarga il braccio sinistro Nel comitale ha tutto sul volto del Gdalli Quindi il rigore c'è tutto Parte sinistro Quagliarella, spiazza il tutto Silvestre Anzi non lo spiazza, Silvestre tuisce ma lo prende 2 a 1 Dopo di lì un rosso che non è storia più dato Penso a Davidoviz Quindi è regalo un casino Tolto il rosso e darò il giallo Un casino ragazzi Veramente un casino Minuto è la spontanea per la Sampdoria Che si merita assolutamente questi tre punti Si merita perché Zionepo non ha fatto toccare un padrone al Verona Che non ha fatto niente Invece l'altra gara che riguarda Milan-Genova 1 a 2 Il vantaggio fulmino Davo 9 minuti di Coran Panne Un bel gol col sinistro All'angolino dove Bekovic non può arrivare Poi c'è stato subito Al 25esimo raddoppio Al 27esimo raddoppio di Cassata Cross in mezzo Penso di Agudelo La difesa di Milan molto male anche Bekovic Porta a vuoto Cassata non può sbagliare alle spalle di Bekovic 2 a 0 E lì ho detto Oddio mio Genova gliene fa 3 Poi Bekovic mette questa palla in mezzo E segna il 2 a 1 E quindi la partita si chiara Povero ragazzi Genova e Milan attacca attacca Riesce a fare la sua nazione in porta E quindi finisce 2 a 1 Sbanca Genova allo stadio sensivo E sempre più salvo Ragazzi se volete altri video del genere Dei post partita lasciate un mi piace Noi ci becchiamo presto a video Bella Grazie a tutti